amici e amiche di sport me benvenuti da cristo re per la university of football si affrontano vidozzi e acci vostra tutto pronto per il calcio d'inizio gioca il primo pallone acci vostra germano corre a destra prestato da diversi avversari quindi ricomincia nella zona di burgio che si sposta il pallone poi scambia ancora con germano prova a sfondare ma viene fermato sesso per vidozzi arriva il lancio lungo intercettato 15 prova germano occasione che termina al lato possesso sfruttato dalla malfa arriva la pressione di luciano poi lo scarico per filoni leggermente impreciso il tiro dell'otto ancora la malfa a scambiare con filoni che ci riprova col destro pallone che finisce fuori germano gioca corto per burgio punizione interessante per vidozzi sul punto di battuta tomasello che parte col destro sfonda la porta e fa 1 a 0 la sblocca così vidozzi rivediamo la botta del 7 non può nulla il portiere 1 a 0 la malfa pensa al tiro col destro deviato poi arriva anche il colpo di testa altro pallone vagante recupera il possesso a civostra che adesso gioca nell'area avversaria prova il tiro garro recupera un compagno che colpisce la traversa brividi per vidozzi pallone buono per filoni che ci prova col mancino altissimo occasione buona per luciano pallone largo tomasello scambia con burgio ma davanti un avversario prova ad andare da solo l'undici tenta la conclusione col mancino possesso per a civostra recupera burgio che fa ripartire il break per vidozzi riceve germano che carica col destro ancora un pallone buono per burgio che tenta la solita percussione tiro però troppo impreciso e in avanti a civostra arriva la conclusione che termina sul palo poi ci riprova filoni possesso per a civostra recupera però germano che si accentra fermato dal portiere avversario corner per vidozzi pallone sul primo palo deviato break per a civostra pallone buono giocato nella zona di filoni che riesce adesso a controllare sterzata dell'otto cerca un varco ci prova col mancino c'è l'anticipo per a civostra che può imbastire un'altra azione d'attacco pallone giocato sempre nella zona di filoni che accelera sulla destra poi carica il destro che stavolta finisce in rete uno a uno fra a civostra e vidozzi il pareggio porta la firma di filoni ventrice gioca su germano che però non inquadra la porta finisce uno a uno il primo tempo di a civostra vidozzi la malfa gioca sulla destra poi scarica su un compagno che gli ritorna il pallone ed è quello buono del vantaggio di a civostra rimonta completata rivediamo il tiro perfetto del 10 rimessa laterale affidata a luciano tocco morbido in aria pareggia ventrice due a due fra civostra e vidozzi rivediamo il cross di tomasello e il colpo di testa perfetto di ventrice accelera sulla destra la malfa poi prova il tiro punizione vidozzi stavolta affidata a burgio pallone alto sopra la traversa controlla bene germano punto un avversario pallone recuperato d'acci vostra che adesso può sfruttare questa azione d'attacco palla a lato arriva il controllo di petto di tomasello ottimo il suo movimento pallone per germano che qui supera filoni ha spazio per andare centralmente la piazza all'angolo il numero 10 e riporta in vantaggio vidozzi tre a due rivediamo il destro preciso di germano prova ad avventarsi su un pallone germano che adesso accelera brucia un avversario arriva il destro e la doppietta valida per il 4 a 2 di vidozzi ha ipotecato la vittoria il numero 10 rivediamo il tiro di germano valido per il 4 a 2 filoni controlla un pallone prova la conclusione respinta dal portiere di vidozzi in avanti a civostra qui c'è un buon movimento recupera garro che però non c'entra alla porta ancora germano tocco per tomasello deviata in corner la sua conclusione lancio lungo del portiere di vidozzi pallone buono per germano che l'appoggia in rete fa tripletta e fa anche 5 a 2 vidozzi partita chiusa nel segno del 10 Alla prossima